Ti sposerai mai? Quello sì, ad Anna poverina la sto facendo aspettare, ma è più una questione, adesso con il covid e tutta questa cosa schifosa, c'è anche brutto, se ti sposi adesso non puoi invitare nessuno, comunque devi invitare, cosa fai? Gli infili il tampone, superi il culo, cioè era brutto, però quando finirà questa porcata probabilmente sì.